Salve, eccoci qua nuovamente a parlare videogiochi e computer art. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato dell'esplosione che questo mercato ha avuto, da mercato ristretto, mercato di nicchia, a ormai una realtà che rappresenta il terzo gradino nel mercato dell'entertainment. Quindi cerchiamo di capire meglio l'entità, la vastità di questo mercato e diamo delle cifre. Le cifre sono quelle che fanno pensare. Più di mille titoli commerciati nel 1996, prodotti come Command & Conquer, F1GP, Quake hanno venduto più di un milione di copie. E se moltiplichiamo per un valore medio di 100.000 lire a prodotto, arriviamo a una cifra di 100 miliardi di giro d'affari per ogni singolo prodotto, il che non è affatto male. Non facciamoci ingannare però, non è un mercato così facile. Se pensiamo che solo i top 20, cioè i 20 titoli più venduti in Europa e in America, hanno rappresentato il 50% degli introiti e i migliori 100 titoli hanno incassato il 95% degli incassi totali. Se a questo sommiamo le politiche di marketing e di produzione sempre più costose, arriviamo ad un panorama futuro che vedrà prospere solo le grandi etichette, solo le grandi software house. Per questo a svantaggio dei medio piccoli sviluppatori, che comunque fino ad adesso sono stati, secondo noi, i migliori apportatori di creatività e originalità. Noi comunque, dico noi di Naima, siamo convinti che vale la pena di tentare. In fondo giochi come Doom, Worms o Pimble sono giochi semplici, che però hanno venduto molto, moltissimo. Pensate che Doom è stato realizzato da due studenti americani, un gioco che ha venduto milioni di copie e che ha rappresentato un culto, un nuovo genere, una nuova categoria. Insomma, da quando Doom è uscito i cloni si sono letteralmente sprecati. Batti pensare a MDK, Quake, Exxon, Tomb Raider. Se quindi siete bravi programmatori C o Assembler, grafici 2D o 3D e comunque avete ottime idee, vedrete che potrete trovare un produttore che sia disposto ad investire su di voi. Quindi, se volete avere una valutazione professionale dei vostri prodotti, faxateci, iscriveteci e comunque contattateci ai numeri in sovraimpressione. Adesso devo andare, ci vediamo alla prossima puntata, ciao!